In questo numero del Salus Tg, presentati dai NAS, i risultati dell'operazione Estate Tranquilla 2017. Italiani a cuore, confusione e scarsa consapevolezza dei rischi. La FIMP, 91.000 minori assistiti per maltrattamenti in Italia. Più di 3.600 ispezioni e sequestri per 25 milioni di euro. Sono i numeri dell'operazione Estate Tranquilla, condotta dai carabinieri per la tutela della salute che si è conclusa all'inizio di settembre. Da giugno i NAS sono stati impegnati in controlli mirati su tutto il territorio nazionale, al fine di rendere sicura l'estate degli italiani e dei turisti stranieri. Il livello della sicurezza alimentare, parliamo soprattutto di quella, è cresciuta molto. È cresciuta molto sia per i controlli e per le norme che regolano questa filiera, ma soprattutto io credo anche per l'accresciuta sensibilità del cittadino. Idee confuse e poca consapevolezza sono i peggiori nemici del cuore. Sebbene 8 persone ad alto rischio cardiovascolare su 10 dichiarano di evitare sale e cibi grassi e ad alto contenuto di colesterolo e benché 7 su 10 affermino di prediligere cibi leggeri. Nei fatti 6 su 10 hanno uno stile di vita sedentario e oltre il 60% è sovrappeso o obeso. Il 17% poi consuma abitualmente alcolici e fuma. E' quanto emerge da uno studio italiano realizzato per la giornata mondiale del cuore 2017. Nel nostro paese oltre 91.000 minorenni sono assistiti perché hanno subito maltrattamenti, ma solo un caso su 9 viene individuato e preso in carico da servizi sociali e sanitari. In totale potrebbero quindi essere 800.000 i minori che subiscono violenze di diverso genere, dall'abuso sessuale alle violenze fisiche a quelle psichiche. I bambini stranieri corrono un rischio doppio di incorrere in un abuso. Questi numeri diffusi dall'undicesimo congresso della Federazione Italiana Medici Pediatri, per contrastare il fenomeno fondamentale il ruolo di sentinella dei pediatri di famiglia.